Ben trovati, nuova puntata di Memeconomics, ben trovati in nostra compagnia, l'economia, la finanza, la politica e l'attualità raccontati attraverso il linguaggio dei meme. E dove eravamo rimasti la scorsa settimana? Beh, ovviamente a Mario Draghi, questa è stata la seconda settimana delle consultazioni ed eravamo rimasti esattamente in questo punto, attraverso il primo meme noi ve lo raccontiamo, e cioè immaginiamoci questo ragazzo che entra con in mano le pizze, le pizze sono il recovery fund, lui invece rappresenta l'Europa. Ecco, si trova davanti a questa situazione, entra nell'Italia e vede che c'è una crisi di governo, fuoco. Mario Draghi, che è l'unico che cerca di spegnerlo in qualche modo, che lo vedete sulla sinistra, sulla destra sono i partiti italiani che sono sdraiati, chi in ginocchio uno che guarda l'altro e poi Sergio Mattarella, che in questo caso è la mamma, che evidentemente non ha dovuto fare altro che, non ha dovuto fare altro, l'unica cosa buona che ha potuto fare è stato chiamare appunto Mario Draghi. Perché è successo questo? Bene, lo vediamo con il secondo meme, eccolo qui. Perché l'Italia stava letteralmente affondando e insomma la classe politica che avrebbe dovuto tendere la propria mano per tirarlo fuori dal pantano, anche se qui l'acqua è azzurra, beh invece di dargli la mano gli dà il 5 e se ne va. La mano sprofonda ed ecco perché è servito l'intervento di Mario Draghi, presidente del Consiglio incaricato. Qual è stata la prima reazione di Draghi, premier incaricato? Questa è stata la prima reazione. Ovviamente il mercato che guarda le cose prima degli altri, cerca di anticiparle. Mario Draghi, premier incaricato, basta sussurrarlo all'orecchio di Piazza Fari ed ecco che arriva il primo sussulto, arriva la spinta verso l'alto da parte del mercato italiano, da parte del Fuzzimib. Ebbene, ci sono stati i giorni delle consultazioni. Questa è stata la seconda settimana, nuovo giro di consultazioni e ci siamo messi nei panni di Mario Draghi perché comunque ha avuto a che fare con la politica, la politica che di fatto ha fallito nella gestione della pandemia e anche nel dimostrarsi, diciamo così, unita a fronte di una situazione, quella dell'emergenza sanitaria, che non poteva prevedere altro che mettersi tutti nella stessa direzione. E allora noi ci siamo messi nei panni di Draghi, in questo caso abbiamo usato Messi e quando sei Mario Draghi e i partiti ti dicono fai in fretta, dopo che i partiti stessi hanno fatto perdere 20 giorni, ma forse anche di più, all'Italia in piena crisi pandemica con una crisi di governo. Beh, insomma, il gesto di Messi è diventato virale nel linguaggio dei meme, io direi che è assolutamente azzeccato. Peraltro è un po' la Draghi mania sostanzialmente. Draghi ha avuto a che fare con tutti i partiti politici e secondo noi a un certo punto ha cominciato ad avere, insomma, ha rischiato di reagire anche male a fronte di alcune richieste. Ad esempio, quest'altro meme che vi facciamo vedere è un po' pixelato, ma questo è un frame da un video con Piero Angela che ha fatto un po' la storia quanto a immagini virali, vi invito a recuperarlo, basta digitare Piero Angela, bastone, che è quello che ha in mano. Ecco, Movimento 5 Stelle nelle consultazioni che dicono a Draghi, saremo noi i garanti della gestione del recovery plan. Il Movimento 5 Stelle che dice questo a un ex presidente della Banca Centrale Europea che ha salvato l'euro. Francamente noi abbiamo fatto interpretare a Draghi Piero Angela e Crimi, questo suo collega con cui nella video originale mostrava determinate dinamiche fisiche. Ora però se permette, dice Draghi, così ce lo immaginiamo, vorrei prendere questo bastone e colpirla ripetutamente. Vi ho ripetuto esattamente la frase che dice Piero Angela nel video originale e secondo noi in questo caso, con il leader davanti al Movimento 5 Stelle, calza davvero a pennello. Dicevo Draghi mania, perché poi adesso insomma Panorama ad esempio ha usato la copertina di Panorama, c'è la faccia di Draghi con i capelli di Dragon Ball. Non ve lo mostriamo, ma insomma per farvi capire come si parla del fruttivendolo del cane, della babysitter, della moglie, dei figli, insomma Draghi a 360 gradi. Sono spuntati anche dei profili falsi, dichiaratamente falsi, su Twitter. Questo ci è piaciuto particolarmente. Mr. Draghi, badate, è un profilo dichiaratamente fake, quindi ironico. Ha scritto questo, ha ricevuto una balanga di retweet. Sono premier incaricato da sole tre ore e Renzi mi sta già sulle balle. Questo insomma anche qui non escludiamo che possa essere in qualche modo passato per la mente a Mario Draghi, che come sapete insomma è molto riservato insomma a livello anche proprio di comunicazione verso il pubblico. Però è giusto che sia così, è giusto che ci sia la Draghi mania, perché se ci avete fatto caso in politica succedono delle cose che non erano mai successe prima. Ad esempio questo meme lo racconta molto bene. Abbiamo preso un altro Angela, Alberto. Salvini, sui migranti, l'abbiamo messo in rosso non per caso. Salvini, sui migranti ok alle leggi UE, quindi cambia la filosofia della Lega sulla politica dei migranti. Il Partito Democratico cosa dice? Governare con la Lega? Siamo disponibili. Qui Alberto Angela non potrebbe che dire un avvenimento talmente raro che accade una volta ogni mille anni. Altro meme di quelli più utilizzati insomma sul web con Alberto Angela che impazza da questo punto di vista. Non solo, perché poi a fronte di questi cambiamenti si generano anche delle situazioni che ricordano dei tradimenti. Ad esempio qui Draghi che passa col suo vestito rosso, Salvini che si gira ma intanto sta tenendo mano per la mano, insomma si tiene per mano con Giorgia Meloni che come sapete non entrerà a far parte di questa ampissima maggioranza prevista per quanto riguarda il governo Draghi. E a proposito di Giorgia Meloni ci siamo messi nei suoi panni. Eccolo qui, lo vediamo attraverso il prossimo meme. Paperino che si sveglia, in questo caso Giorgia Meloni, quando ti svegli perché sta per iniziare il primo CDM del governo Draghi ad ampissima maggioranza, praticamente c'è di tutto, PD, Lega, centrodestra, centrosinistra, ma poi ti ricordi che sei Giorgia Meloni e il tuo partito è l'unico rimasto fuori. C'è da dire che Giorgia Meloni è stata coerente con la sua idea politica, nel senso che sin da subito ha detto Fratelli d'Italia non farà parte di questo eventuale governo Draghi, staremo all'opposizione, un'opposizione costruttiva. Fa un po' sorridere al momento in cui si sente parlare di opposizione costruttiva, perché alla fine se fai opposizione distruttiva non fai né bene al Paese né fai ovviamente bene anche a chi è al governo. Per cui l'opposizione dovrebbe essere di per sé costruttiva, questo è quello che pensiamo noi. Ma cos'è che alla fine ha fatto discutere maggiormente i partiti politici negli incontri con Mario Draghi, capire se il governo sarà politico oppure sarà tecnico. Questo insomma ha diviso anche il Movimento 5 Stelle proprio all'interno del suo movimento, del suo partito e da cui infatti ne è nata anche una sorta di scissione con Di Battista e Toninelli che abbandoneranno insomma il colore giallo. Beh insomma Draghi ha avuto un'idea geniale e questo ce lo racconta questo meme. Tra governo tecnico e governo politico quale facciamo? Beh tutte e due. Draghi schiaccia entrambi i pulsanti e abbiamo risolto la situazione. A volte la politica può essere molto molto semplice. Tutti contenti? E invece no, per niente tutti contenti. O meglio è l'economia reale che soffre e ce lo racconta Gentiloni che è il commissario dell'economia dell'Unione Europea con questo annuncio. Entro il 2022 il PIL dell'Unione Europea tornerà ai livelli pre-pandemia. Una notizia bellissima. Il nostro amico infatti se la ride ma non l'Italia. Lo ha detto sempre Gentiloni e qui come vedete insomma c'è decisamente poco da ridere e insomma si va avanti quindi l'economia e la finanza va avanti anche a contraddizioni. Ce ne sono anche nella finanza più stretta. Basti pensare a quello che accade al prezzo del petrolio. Qui torniamo al gioco dei due pulsanti. Lockdown in tutto il mondo. Trasporti fermi, aerei, treni, anche di auto insomma in giro. Non è che se ne vedano tante. La Germania lockdown totale fino al 7 marzo, Regno Unito lockdown totale. Bisogna decidere, gli investitori devono decidere se andare short di petrolio o andare long di petrolio. Come vedete il nostro amico Spider-Man, il mercato decide di andare long, di far salire il prezzo del petrolio ed è esattamente quello che è successo. Fino a 58,8 dollari al barile al momento pre-pandemico quando i trasporti ovviamente c'erano ed erano regolari. Poi insomma una nota dell'OPEC di questa settimana ci ha fatto capire che è una ripresa molto più lenta anche a livello di domanda del petrolio e quindi ha avviato un piccolo ritracciamento del prezzo del WTI. Un'altra contraddizione o meglio un'altra situazione che ancora fa discutere è quello che riguarda il caso GameStop. Non se ne parla più. GameStop ha ricevuto vendite molto forti e sostanzialmente tornata ai livelli del precedente, insomma lo short squeeze, però intanto altri piccoli titoli diciamo così stanno ricevendo sostegni, non dico sospetti, però molto molto forti, molta volatilità. La stessa, non esattamente la stessa che abbiamo visto su GameStop si sta verificando anche su altri titoli anche in Italia ma non soltanto. Ad esempio ci immaginiamo il piccolo investitore, il piccolo trader che conosce una ragazza bella come può essere Scarlett Johansson, ti presenti e dici che hai venduto GameStop a 483, che è il massimo a cui il titolo è arrivato nel periodo in cui appunto c'era lo short squeeze e WallStreetBet. Dall'altra compri fin cantiere a 0,39, fin cantiere a un altro titolo italiano che ha avuto un'impennata in questa settimana clamorosa, ha triplicato il proprio valore, beh insomma è un modo sicuramente per fare bella figura con la Scarlett Johansson della situazione. Infine non dobbiamo dimenticarci le banche centrali che hanno, sono intervenute, ha parlato Jay Powell, ha parlato Christine Lagarde, è stato rivisto al ribasso il mercato del lavoro americano, l'Europa ha bisogno del recovery fund, ha bisogno di stimoli fiscali e Christine Lagarde è tornata di nuovo sul bitcoin dicendo non è un asset di cui tendiamo a fidarci e di cui insomma le istituzioni tenderanno ad avvicinarsi da qui ai prossimi anni. Ci mettiamo nei panni di Elon Musk che invece ha acquistato 1,5 miliardi di bitcoin, Tesla ha anche accettato il bitcoin come misura di pagamento, beh Christine Lagarde dice il bitcoin non è un asset affidabile, Elon Musk se la ride, per noi è così che ha reagito Elon Musk quando ha sentito Christine Lagarde esprimersi in questo modo, come faceva Tom Cruise in alcuni talk show americani che insomma anche qui attraverso i meme è diventato virale questa immagine, questo piccolo fotomontaggio. Questo è Memeconomics anche per oggi, speriamo di avervi fatto divertire, di avervi strappato almeno un sorriso. Ci vediamo alla prossima puntata, un buon proseguimento sempre sul canale YouTube delle Fonti TV. Grazie a tutti.